Quale sindaco vorresti per Pescara? Si chiama Scegli il tuo sindaco, la nuova iniziativa del centro legata al nome del prossimo primo cittadino di Pescara. Fino al 7 aprile sulla prima pagina del centro sarà pubblicato un tagliando sul quale si potrà indicare il proprio candidato sindaco preferito. Scrivi il nome scelto e imbuca il tagliando in una delle urne collocate nelle edicole indicate sul giornale.